Mentre la regione siciliana ha nominato Carlo Turriciano, commissario ad acta per il dissesto economico del comune di Tortorici, il Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria ed urgente dal Presidente Annunzio Reale, ha approvato il piano finanziario di riequilibrio pluriennale, riformulato ex novo dal nuovo revisore dei conti Dario Paterniti. Un piano al centro di un acceso dibattito, nell'Aula Giovanni Paolo II, alla presenza delle consigliere di minoranza Cinzia Contimica, indipendente Rosita Paterniti Barbino, Tortorici, terzo millennio. Il piano redatto viene contestato dalle due consigliere principalmente per due motivi, a loro dire contraddittori. Il primo riguarda il revisore dei conti, che prima si è fatto promotore del piano stesso e adesso si ritrova a dare pareri di regolarità in qualità di revisore. Ho presentato una regolare domanda per poter ricoprire il ruolo di revisore dei conti, ha dichiarato Dario Paterniti, intervenuto in Aula su richiesta del Presidente del Consiglio. Così come bandito dal comune di Tortorici, quello che avevo detto precedentemente in qualità di esperto esterno, a titolo gratuito, non è assolutamente in contraddizione con il ruolo che attualmente rivesto. La seconda contraddizione, a detta dei consiglieri di minoranza, riguarderebbe il responsabile del primo settore, nominato temporaneamente responsabile del secondo settore, e che sottoscrive il piano di riequilibrio dandone allo stesso tempo parere contrario. Crediamo, hanno dichiarato i consiglieri di minoranza in Aula, che la procedura adottata sia irregolare e illegittima, in quanto non prevista dalla legge. Non possiamo presentare un nuovo piano di riequilibrio adesso perché i termini sono già scaduti. Il Consiglio, con i soli voti favorevoli della maggioranza, ha approvato il piano finanziario, che sarà valido fino al 2045 e prevede un riequilibrio a partire dal 2025, grazie ad allenazioni, utilizzo di illuminazione a LED e incremento della raccolta differenziata. Intanto, il commissario si è già insediato e ha acquisito la documentazione necessaria per valutare anche la strada proposta dal Consiglio con l'approvazione del nuovo piano di riequilibrio finanziario dell'ente. Si aspetta adesso la decisione della Corte dei Conti di Roma, a cui la sezione di Palermo ha rinviato tutti i documenti, essendo la vicenda molto complessa. La dichiarazione del dissesto, dunque, al momento è sospesa. Grazie a tutti.